Ospite quest'oggi nei nostri studi la presidente dell'Associazione Le Orchidee con sede a Corridonia, Maria Baio. Con lei parliamo della seconda edizione di una bella iniziativa, La Forza del Cammino, mille passi cominciano sempre da uno. Un'iniziativa che si era svolta con grande successo di pubblico lo scorso anno e che quest'anno è stata in parte rivista e riadattata alle nuove normative Covid. Allora Maria, come si svolgerà quest'anno l'evento? Sì, quest'anno l'evento, visto che per motivi di Covid non possiamo stare molto vicini, quindi sì, a distanza. Ognuno può passeggiare con chi vuole, con i propri figli, il marito, il cane, da soli, dove vuole, quindi sceglie il percorso. L'unica cosa che noi chiediamo, se vuole farsi una foto, sia della persona stessa e anche del percorso, è taggarci nei social, sia Instagram con Le Orchidee TS o Facebook, sempre con Le Orchidee. Parlando un po' della vostra associazione, vogliamo ricordare brevemente di cosa vi occupate e quali sono le principali iniziative che svolgete durante l'anno. L'associazione Le Orchidee è un'associazione no profit che è nata per supportare e sostenere le pazienti oncologiche, soprattutto quelle operate di tumore al seno. Noi in quest'anno abbiamo fatto, l'anno scorso dopo la camminata, abbiamo fatto sotto Natale un calendario che come raccolta fondi è andato abbastanza bene e siamo stati soddisfatti. Quest'anno purtroppo con il Covid tante cose sono state ferme, quindi non abbiamo potuto organizzare tanti eventi, però a gennaio è partito lo stesso un nostro progetto chiamato lo sportello dell'accoglienza. Si tratta di una ragazza che accoglie il reparto dell'oncologia a Macerata, delle persone che hanno bisogno di, per qualsiasi informazione, devono parlare con i medici. Ecco lei sta a disposizione per, fa da tramite, perché tante volte è impossibile parlare nel reparto perché giustamente stanno preparando le medicine, le cure e quindi chi sta a casa magari ha bisogno di parlare telefonicamente o sta lì, questa ragazza si chiama Marta e sta lì in reparto a disposizione per chi ne avesse bisogno. In attesa di altre vostre iniziative invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione di domenica prossima 18 ottobre. Anche in questo caso da parte dell'associazione Le Orchidee sono doverosi ringraziamenti. Ringraziamo tutti quelli che ci sostengono, ci sostengono nei nostri social, chi avesse bisogno di noi può contattarci. Noi siamo sempre a disposizione per un consiglio, per sostenere qualcuno che sta affrontando questa malattia, sia direttamente la paziente o i loro familiari.